Buongiorno a tutti, sono Sara ed insegno Pilates in Italiana Fitness. Oggi faremo insieme una lezione di Pilates, una lezione che potrete fare tutti tranquillamente e cercheremo di lavorare vari distretti muscolari, cercando di toccarli un pochino tutti e concentrandoci principalmente sulla parte del core, sulla stabilizzazione del core, ovviamente cercando sempre di partire da una postura corretta. Cominciamo. Allora, ci posizioniamo in piedi con la limpiezza dei piedi che è più o meno la limpiezza del bacino, prendiamo un bel respiro e ci allunghiamo verso l'alto e buttiamo fuori l'aria. E lo facciamo ancora, prendo aria dal naso e butto fuori l'aria dalla bocca. Ancora, prendo aria, mi allungo spingendo bene i piedi a terra e butto fuori. Un'ultima volta, ci allunghiamo su e ci tuffiamo buttando fuori l'aria. Se avete bisogno piegate leggermente le gambe, prendiamo aria e buttandola fuori srotoliamo lentamente la colonna. E ancora, prendo aria, schiaccio i piedi a terra, mi allungo bene verso l'alto e mi tuffo. Piego leggermente le gambe, srotolo lentamente la colonna, una vertebra dopo l'altra. E lo facciamo l'ultima volta, mi allungo, cresco bene verso l'alto e mi tuffo. mi abbandono, rilasso la testa, le spalle, le braccia, piego leggermente le gambe e srotolo lentamente la colonna. Questa volta lasciando le braccia lungo i fianchi. Apriamo bene le spalle, prendo aria e quando butto fuori ruoto la testa a destra. Prendo aria cercando di crescere e fuori. Ancora, inspira, butta fuori l'aria. Facciamolo l'ultima volta. Prendo aria e quando butto fuori ruoto la testa a sinistra. Torniamo al centro, mandiamo l'orecchio verso la spalla. Prendiamo aria allungandoci verso l'alto e fuori. Facciamolo l'ultima volta. Prendo aria e fuori. Ora facciamo tutto il giro. Proviamo ad allungare bene il tratto cervicale quando la testa va indietro. Non la buttate indietro. Cercate di accompagnare il movimento e non rimanete mai in apnea. Cambia il giro due volte. Respira in modo fluido. Ultimo. E torna su. Andiamo con le spalle. Prendo aria. Le spalle salgono le orecchie e buttando fuori l'aria scendono verso il basso. Ancora. Inspira. Butta fuori l'aria. Senti le scavole che spigono giù verso i glutei. Ancora due. E giù. Proviamo a stabilizzare il bacino. Inspira. E giù. Circonduzione. Vai. Tutto il giro. Grande il movimento. e in avanti. Vai. Tre volte. Tre. Cercate di non perdere l'allungamento. Due. Uno. E apri bene. Allora siamo con le spalle belle aperte. Ora portiamo le braccia avanti e le fermiamo qui. Forti. Quindi mai mosce le braccia. Prendiamo aria e scendiamo. E torniamo su. Ovviamente non devo esagerare nel piegare le gambe. Ognuno piega le gambe quanto riesce. E torna su. Spingiamo bene i piedi a terra. Facciamoci aiutare. E torniamo su. Fate attenzione a non buttare la schiena in avanti. Cerchiamo di rimanere con la schiena più dritta possibile. Proviamo a mantenere la nostra curva lombare naturale. La prossima volta rimaniamo giù. Le gambe si piegano quanto potete. Foggiamo le mani sulle ginocchia. Arrotondiamo la schiena a partire dal bacino. La riallunghiamo. Lo facciamo un'altra volta. Retroversione del bacino. Mi guardo la pancia. Mi riallungo. Riporto le braccia lì. E torno su. Ancora. Prendo aria e vado. Poggio le mani. Attenzione a non incassarvi. Retroversione del bacino. Allungo bene la schiena. Mi riallungo. Braccia. Forti. E torno su. Ancora. Scendo. Poggiamo le mani. Retroversione del bacino. Testa. L'ultima. Riallunghi. Riposizioni le braccia forti. E ritorni su. Ancora uno. Vai. Scendi. Quanto vuoi. Mantieni la curva lombare. Poggio le mani. Parti dalla retroversione del bacino. La testa è l'ultima che va. Attacca l'ombelico la schiena. Tiri allunghi. Braccia. E su. Ora solleviamo i talloni. Schiacciamo bene le dita a terra. Solleviamo le braccia. E scendo. Ancora. Sollevo i talloni. Mi allungo bene verso l'alto. Cerco di tenere la pancia dura, dura, dura. E scendo. E ancora su. Schiaccio le dita a terra. Dall'alluce al mignolo. Un filo mi tira su. Cercate di non schiacciarvi. E scendo. E ancora. Vai. Mi allungo. Cresco bene verso l'alto. Cerco di non portare sulle spalle. E scendo. Ora uniamo i due movimenti che abbiamo appena fatto. Da qui. Porto le braccia avanti. Vado dietro col sedere. Salgo. Schiaccio le dita a terra. E mi allungo bene verso l'alto. Senza sollevare le spalle. E ancora. Scendo. Vado dietro. Piego le gambe quanto posso. Forti piedi. Sollevo le braccia. Il filo mi tira su. Mi aiuta. Dura la pancia e fermo il bacino. E ancora. Prendo aria. Torno su. Schiaccio bene i piedi. Mi allungo. Senza spacciare. Facciamone ancora uno. Va. Dietro. Salgo. E cresco. Poggio i talloni. E mi rilasso giù. E mollo le braccia. E srotro lentamente la colonna. Bene. Facciamo ancora un esercizio in piedi prima di andare giù. Da qui. Piedi sempre paralleli. Portiamo il peso tutto sul piede sinistro. E solleviamo il ginocchio destro. E poggiamo la punta a terra. Proviamo a rimanere stabili. Vai. Sei volte. Sale. E scende. Quindi il bacino è fermo. Vai. Su. E scende. Prova a mantenere l'allungamento. tre volte. E scende. Ancora due. E scende. Ultimo. Su. E scende. Proviamo a ruotare un pochino l'anca. E vai. Su. Stessa cosa. E scende. Se vogliamo teniamo anche le braccia qui così non sembrano pesanti. Vai. Ancora quattro. E scende. Sei attivo, eh? E scende. Vai. E scende. Ora solleviamo il ginocchio in avanti. Le braccia le portiamo avanti. Ruoto l'anca. le braccia aprono e seguono il movimento. E giù. E lo facciamo ancora. Quindi diventa una circonduzione. Apro. Chiudo. E ancora. Cercate di essere sempre lunghi, lunghi, lunghi verso l'alto. E non vi accomodate mai sulla gamba di terra. E giù. Ancora. Vai. Prendo aria. Il piede sotto è attivo. E giù. Il movimento può essere anche piccolo piccolo, eh? Tieni qua. Solleva le braccia. Piede a martello. Vai a poggiare il tallone e allungati sulla gamba. Allunga la schiena come se ti tirassero. E ritorno. Facciamolo dall'altra parte. Questa volta teniamo anche le braccia attive. Sposta il peso sull'altro piede. Vai. Solleva il ginocchio. E scendo. Fermo il bacino. Sollevo il ginocchio. E scendo. Ancora quattro volte. E scendo. Senti che parte da sotto l'omberico il movimento. Vai ancora. E vai. Ruotiamo l'anca. Apriamo anche le braccia. Cerchiamo di rimanere sempre in asse. Prendi la forza da qua sotto. Solleva il ginocchio. Vai ancora. Cinque. Quattro. La sensazione è che un filo ti tiri sempre verso l'alto. Tre. Due. Ultima volta. Uno. e andiamo con le braccia. Facciamo un cerchio. Apro. E scendo. Vai tutto il giro. Prendo aria. Apro. E scendo. Cerca di sentire l'anca che comanda. Non è il ginocchio. Non esagerare. Vai ancora. E scendo l'ultima volta. Tieni. E da martello. Appoggio. E vado giù. Mi allungo bene verso avanti. E chiudo. Ok. Da qui ci mettiamo con i piedi in fondo al tappetino. Prendiamo aria. Ci tuffiamo avanti. Piediamo le gambe. E camminiamo. fino a portarci in quadrupedia. Le mani sono sotto le spalle e le ginocchia sotto le anche. Retroversione del bacino. Mi guardo la pancia. E allungo bene la schiena. Ancora. Retroversione del bacino. E allungo bene la schiena. Vai ancora. retroversione del bacino. E allungo bene la schiena. Resto qua. Allungiamo la gamba destra dietro. Cercando di mantenere il bacino stabile. E ritorna. Alterno le gambe. Vai con la gamba sinistra. Cerca di sentire che ti sfilano la gamba. E torna. Non collassare con il collo. Stai su. E torna. La gamba ritrova lo spazio che ha lasciato. E ritorna. Proviamo ad aggiungere il braccio opposto alla gamba. Quindi insieme alla gamba destra. Proviamo ad allungare il braccio sinistro. Cerca di tenere la spalla bella aperta. La sensazione sempre di allungamento massimo. E ritorna. Vai ancora con l'altra. Mi allungo. Come se mi tirassero. Cerca di non storcere. Storcere. E ritorna. Vai. Prendo aria. Mi allungo. E ritorno. Ultimo. Prendo aria. Mi allungo. E ritorno. Ok. Da qui. Spostiamo le mani un po' settino in avanti. Portiamo il peso sulle mani. E piegando le braccia e spingendo i dietro. Ci appoggiamo con la mancia a terra in posizione prona. Allora. Partiamo con le mani sotto la fronte. Le gambe non sono troppo divaricate. Anzi, sono abbastanza strette. L'ombelico si attacca alla schiena. Prendiamo aria e quando buttiamo fuori l'aria proviamo a sentire l'ombelico che si stacca dal tappeto. Potete provare a mettere le mani proprio qua sotto. e quando buttate fuori l'aria sentite l'ombelico che si stacca dalle mani. Il pube rimane fermo lì a terra. Ok. Ora, quando prendo aria cerco di sentire le gambe che mi spingono bene verso dietro. E all'espirazione risucchiamo l'ombelico e solleviamo le gambe. e scendo. Lo facciamo qualche volta. Inspiro, sento, tirare dietro le punte dei piedi. All'espirazione le solleviamo. e scendo. Attenzione a non spingere sulla pancia per sollevare le gambe. L'addome è sempre attivo. E scendo. Se sentite fastidio al tratto lombare potete intanto lavorare con le gambe in modo alternato oppure avere soltanto la sensazione delle gambe che tirano però poi non le sollevate. Così almeno eviterete il disturbo sulla schiena. Facciamolo ancora due volte. Prendo aria. Ultima volta. Prendo aria. Sento le punte scivolare dietro. Allungo bene. Tutto fuori. Ora lavoriamo con la parte alta. Prendo aria. La fronte scivola oltre le mani. Buttando fuori l'aria prova a sollevare leggermente la testa. E scendo. E poi ancora. Prendo aria. Ricordati di sentire l'ombelico che si attacca bene alla schiena. E scendo. Usiamo anche le braccia. Prendo aria. Fuori l'aria sollevo. Apro le braccia. Apro bene il petto. Il mento è sempre leggermente retratto. E torno giù. Ancora. Prendo aria. Mi sento aria. Fuori quando stai su. E scendo. Ultima volta. Vai. Prendi aria. Fuori l'aria. Ora porta le braccia ad incorniciare la testa. E scendi. Proviamo a usare tutti e quattro gli atti. Senti il filo che ti tira sempre in avanti. Se non te la senti mi raccomando non sollevare. Stai su. Spingi bene le punte dei piedi verso dietro. E ora senza oscillare troppo. Prova a battere braccia e gambe come se stessi nuotando. Respira. Non rimanere in apprea. Ricordati bene che l'ombelico deve essere attaccato alla schiena. Non devi ciondolare come se stessi affogando. La schiena è forte. Sentirei tutti i muscoletti della schiena belli attivi. Mi raccomando il mento. Quattro. Tre. Due. Uno. E lascia. E ti riposi. Ti puoi riposare un attimo. Ma solo un attimo. Perché ripartiamo subito. Portiamo le mani sotto le spalle. Apriamo bene le spalle. Allunghiamo la colonna. Spingiamo sulle mani. E ci portiamo sui talloni. Ok. Portiamo le mani vicine ai piedi. E srotoliamo la colonna. E ci portiamo seduti. Ok. Gambe piegate. Le mani in presa dietro le gambe forti. Sempre attive le braccia. Lasciamo le spalle basse. Prendo aria. Mi allungo bene. E buttando fuori l'aria vado in retroversione col bacino. E di nuovo. Prendo aria. Mi allungo. Senza spingere troppo il petto e la pancia in avanti. E verso l'alto. E fuori. Ancora due volte. Prendo aria. cresco bene verso l'alto. Senza mandare il mento. Mi raccomando. Vieni il mento leggermente ritratto. Ancora uno. E fuori. Il cubo è come se si volesse agganciare all'ombelico. E torno. Lasciamo le braccia avanti. Prendo aria. Mi allungo. E provo a sentire il petto che vuole allungarsi ancora di più verso l'alto. Vuole salire verso l'alto. E retroversione del bacino. E ancora. Prendo aria. Cresco ancora di più verso l'alto. E fuori. Due volte. Prendo aria. Senza il petto che tira su verso l'alto. E la schiena intanto si allunga ancora di più. E fuori. Ultima volta. Prendo aria. Cresco bene verso l'alto. E butto fuori. La prossima volta ci andiamo a sdraiare. Prendo aria. Cresco bene verso l'alto. E butto fuori. Mentre scendo una vertebra dopo l'altra posso anche tenermi agganciata con le mani alle gambe. e ci andiamo ad allungare dietro. Ok. Portiamo le braccia a lungo i fianchi. Porti le braccia a terra. Quindi le braccia non devono essere molte. I piedi sono sempre paralleli. Andiamo in retroversione col bacino. E solleviamo il bacino verso l'alto. Una vertebra dopo l'altra. E sdratola lentamente la colonna. E lo facciamo ancora. Parti dal bacino. Solleva una vertebra dopo l'altra. Quando arrivi su controlla che il peso sia appoggiato, sia distribuito fra piedi e spalle. e sdratola lentamente la colonna. Il segnale è l'ultimo a toccare. E vai di nuovo. Sali, 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 sali. Resta qui. Spingi bene le ginocchia in avanti. Apri bene le spalle. Solleva le braccia leggermente da terra. Qualche centimetro. Spingi le forti. Intanto i glutei stretti stretti. Ora, porta le braccia in alto. Cerca di non perdere le spalle. Allunga fin dove vuoi le braccia senza spacciare. e sdratola lentamente la colonna. Una vertebra dopo l'altra. E all'ultimo poggi il bacino. Ora non è più l'appoggio delle braccia. Vai, spingi bene sui piedi. Solleva una vertebra dopo l'altra. Arrivi su. Attenzione a non spacciare. Forti le braccia. Ritornano in avanti a pochi centimetri da terra. E sdratola. E giù. Vai ancora. Braccia che scivola in avanti. Le sollevi leggermente da terra. A retroversione. Solleva il bacino verso l'alto. Arrivi fin dove vuoi. Abbassa le costole verso l'ombelico. Manda le braccia dietro. Apri bene le spalle. Piedi e spalle sono i punti d'appoggio. La testa è leggera. E sdratola. E porta le braccia. Facciamo l'ultima volta. Scivola con le mani verso avanti. Solleva. Abbassa e chiudi le costole verso l'ombelico. Spiggi le ginocchia in avanti. Porta le braccia indietro. E sdratola. Unisci le mani e allungati bene e stiracchiati. Unisci i piedi. Come se fossero una gamba unica. da qui. Da qui. Avvi le braccia. e ruota il bacino a destra. E poi a sinistra. Ok. Da qui. Partiamo con le mani dietro la testa. A sostenere bene la testa. Non la dobbiamo sentire mai pesante. prendo aria. Prendo aria. Ridistanziamo un pochino i piedi. Scusate. Prendo aria. Buttando fuori l'aria. Solleviamo la testa e le spalle. Cercando di guardare in avanti e non in alto. E scendo. Ancora. Prendo aria. Mi sento come tirare verso dietro. E butto fuori l'aria. Attacco l'ombelico alla schiena. E scendo. L'ideale sarebbe mantenere il bacino più stabile possibile. Quindi senza mandarmi in retroversione. E scendo. Vai ancora una volta. Prendo aria. Fuori. E scendo. Da qui. Lasciamo le braccia in questo modo. Se vi danno fastidio le spalle le tenete lungo i fianchi. Solleviamo la gamba destra. La gamba sinistra. Stendiamo le punte dei piedi. E scendiamo con la punta del piede destro buttando fuori l'aria. E scendo. E salgo. Scusate. Vai ancora. E salgo. Ancora. Le mani se ce l'hai dietro la testa ti aiutano sempre a mantenere l'allungamento del collo. Attenzione qui mi raccomando a non svanciare. Cercate sempre di tenere l'ombelico attaccato alla schiena. Ancora. Ok da qui. Proviamo ad allungare bene verso dietro. Sollevare la testa e le spalle. E fare lo stesso movimento con la testa su. Ovviamente appena senti il collo troppo rigido. Puoi tranquillamente lasciare la testa a terra. Vai. Gli addominali sono belli attivi. Non devi mai sentire che ti stanno collando. Gli addominali sono belli attivi. Ancora due volte. Ultimo. e poggi i piedi e giù ok, adesso aumentiamo un pochino il ritmo prendo aria, quando butto fuori sollevo sollevo la gamba destra allungo le braccia in avanti e sento la spinta delle mani come se mi stessero tirando allunghi la gamba sinistra in avanti lavori soltanto con la gamba destra scende e sale scende e sale se pensi di aver bisogno di un sostegno puoi mettere una mano dietro la testa e sale, scende e sale resta qua solleva l'altra gamba e scende senti la spinta delle mani e scende ancora spingi la punta lontano spingi la punta lontano da qui riposati un attimo pronti per l'ultimo sprint vai, prendo aria butto fuori sollevo testa e spalle ginocchio se vuoi sollevi anche l'altra gamba le mani si agganciano e tirano e scendo giù ancora prendo aria mi aggancio sulla gamba e è come se mi volessi sollevare e giù ancora prendo aria fermo il bacino e giù l'ultimo prendo aria e giù pieghiamo l'altra gamba mani dietro la testa vai allunghiamo la gamba destra a terra fuori l'aria allunghiamo le braccia e lavoriamo con la gamba sinistra vai senti sempre la spinta delle mani in avanti prova a mantenere anche l'angolo del ginocchio sempre uguale e ci riposiamo un attimo vai prendo aria fuori l'aria stai su se hai bisogno solito sostegno dietro la testa spingi bene la punta del pie di testo lontano vai vai spingi lontano l'ultimo l'ultimo e giù ok ci manca l'ultimo allunghiamo le braccia prendo aria fuori l'aria sollevo sollevo anche l'altra gamba mi aggrappa la gamba e penso di salire e scelgo poi ancora prendo aria fuori l'aria forte la gamba destra che rimanete davanti e dietro ancora due prendo aria fuori e scendo l'ultima volta prendo aria e scendo adesso lo facciamo alternato e poi cambiamo esercizio esercizio ok da qui solleviamo le gambe stendo una gamba in avanti prendo aria mi allungo bene bene e fuori l'aria mi addirappo la gamba e salgo e cambio e cambio fermo il bacino spingi bene la punta in avanti spingi bene la punta in avanti ancora tre due le mani spingono contro la gamba e la gamba si tiene forte e lascio ci allunghiamo e ci giriamo su un fianco ok il braccio è teso e appoggio l'orecchio sopra se però vi sentite il collo in una posizione scomoda potete o piegare il braccio oppure mettere un cuscinetto sotto l'orecchio io lo lascio teso da qui le gambe sono tese anche qui se avete fastidio alla schiena spostate le gambe leggermente in avanti rispetto al bacino e le potete anche un pochino piegare scegliete voi lo sguardo è sempre avanti il braccio sopra mi aiuta e fa da sostegno quindi è forte le punte dei piedi spingono lontanissimo e proviamo a sollevare le gambe e scendo vai prendo aria spingi i piedi lontani e fuori l'aria sollevi e scendo ok ancora e scendo provate a non sollevare la spalla rimane lì e scendo prova un po' a tenere le gambe qui ferma la gamba sopra e lavora solo con quella sotto che spinge lontano e sale si avvicina all'altra e scende vai ancora e scende provate anche a mantenere uno filino di luce sotto al bianco quindi non lo schiacciate vai e scende vai e scende ancora scende tieni su tieni tieni porti le gambe piega la gamba sotto e poi già avanti fai pressione sulla mano e portati sull'avambraccio ok questa è ferma lavoriamo con l'altra col piede a martello viene in avanti e con la punta se ne va dietro ancora piede a martello avanti e con la punta dietro prova adesso a tenere il più possibile il busto fermo quindi non ti accasciare attenzione a non spanciare quindi la gamba va dietro finché riesci a tenere forte la parte alta del tuo corpo se ti senti insomma bene su questo esercizio puoi anche scegliere di mettere la mano qui che ti faccia un pochino più faticoso vai ancora ora proviamo a lasciare la gamba dietro teniamo qua scende la punta e sale scende e sale porti qua e non collassate col fianco vai 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 lo so che fa male ma passerà subito 4 3 2 tieni allunga come se ti tirassi facciamo gli ultimi 6 5 4 allunga 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 3 allunga 2 1 pieghi la gamba e stai qui sto qui mi allungo bene quindi non sto mai moscio su ora la gamba che ho avanti me la riporto qui se questa posizione vi da fastidio per il ginocchio perché vi sentite troppo inchiusi potete stenderla non cambia assolutamente nulla se le abbiamo piegate agganciamo la caviglia della gamba allunghiamo il braccio verso l'alto e proviamo ad inclinarci nella direzione delle gambe e torniamo su guardate non sto spostato di là ma cerco sempre di tenere forte il fianco mi allungo e torno se ho la gamba tesa è uguale mi allungo e torno ancora una volta mi allungo bene se posso inclino e questa volta aggiungo la torsione giù la testa ok torniamo scivoliamo da sull'altro bianco e facciamo tutto dall'altra parte ricordatevi braccio teso sguardo avanti collo lungo le gambe in linea oppure spostate un pochino in avanti rispetto al bacino il braccio sopra è quello che mi tiene quindi forte prendo aria spingo le punte dei piedi lontano sollevo le gambe e scendo vai ancora e scendo senti la spinta dei piedi e scendo ancora due volte e scendo la prossima volta resto su tengo la gamba sotto scende e aggancia quella sopra scende e aggancia quella sopra vai non perdere mai l'allungamento ancora schiaccia sempre dentro l'ombrilico tieni su forti le gambe spingono lontano e ora la gamba sotto la piego spingi forte la mano a terra e teni dormi sull'avambraccio la gamba sotto è piegata e vai lavoriamo con quella sopra martello punta martello punta non ti chiudere forte la spalla vai chi vuole può tenere anche la mano dietro la testa ovviamente non ti deve spingere vai martello lontano martello lontano la gamba come se stessi pennellando il muro lontano vai ancora vai tieni lasciala dietro scende e sal scende forte l'addome e tieni bello sostenuto il fianco ancora 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 non crollare vai 5 4 3 dura la pancia 2 1 allungo allungo ancora vai apro e chiudo come se mi dovessi stiracchiare vai e allungo apro e la gamba che ho appena lavorato la incrucio e mi allungo bene verso l'alto quindi non vi chiudete ma state sempre belli sottilati ricordate il solito filo che vi tira come prima la gamba che adesso sta avanti la potete portare o piegata oppure se vi dà fastidio la tenete tesa è uguale se ce l'hai piegata ti puoi agganciare alla caviglia ci allungiamo verso l'alto cerchiamo di tenerci con il peso tutto di qua e ci allunghiamo e torno su può darsi che non riusciate ad inclinare molto ma non fa niente l'importante è che ti allunghi che ti allunghi verso l'alto poi se ce la fai inclini e torno ultimo questa volta chiudi allora da qua solleviamo le due gambe portiamo le mani in presa sempre sulle gambe prendiamo aria e all'aspirazione spingiamo le gambe contro le mani e proviamo a vedere se riusciamo a salire se non ci riusciamo non fa niente ritorniamo sdraiati a terra allunghiamo le braccia in avanti e sdrotoliamo lentamente la colonna allunghiamo le braccia dietro solleviamo le gambe mani in presa e di nuovo spingi le mani contro le gambe le gambe contro le mani rimani proprio agganciato in equilibrio arrivi su e come abbiamo fatto all'inizio cresci bene braccia e scendi ricorda una vertebra dopo l'altra se hai bisogno puoi sempre tenere le mani dietro solleva le gambe e ancora adesso proviamo a stendere le gambe vai ancora retroversione del bacino schiaccia dentro una vertebra dopo l'altra allunga ancora per due volte puoi provare a prendere le gambe e sollevare stendi le gambe e vai l'ultima volta con l'aiutino prendo aria fuori l'aria spingi le mani contro le gambe le gambe contro le mani cerca una sorta di equilibrio e cresci e retroversione del bacino ok adesso se hai bisogno riprendi le gambe piegandole a tavolino altrimenti lascia le gambe qui prendi aria segui con la testa e le spalle e vai direttamente verso i piedi cresci e retroversione del bacino e ancora vai prendi aria e fuori l'aria più lento possibile le gambe forti schiaccia dentro l'ombelico e come se ti dovessi tuffare non ti devi schiacciare e torna e retroversione lo facciamo l'ultima volta allunga bene grandi aria e fuori l'aria torna apri da qui divariti leggermente le gambe le puoi tenere anche flesse se preferisci porti le braccia fuori prendi aria ti allunghi fuori l'aria ruoti a destra puoi anche tenere le braccia leggermente a destra e torna prendo aria fuori e torna vai ancora non cedere stai su e vai e torna per le posizioni sedute puoi anche scegliere di avere un rialzino sotto il sedere e torna completiamo prendo aria e mi allungo fuori l'aria torsione a destra porto il minero verso il minero del piede e torna vai e torna ancora ruota e torna vai raggiungi con il minero della mano il minero del piede se non ci arrivi non fa niente il mento va sempre verso lo sterno guarda la mano dietro e torna facciamone ancora due ruota ultimo prendo aria e vado e torna ok da qui possiamo incrociare le gambe se la posizione vi dà fastidio sempre per le ginocchia o comunque per altre motivazioni potete lasciare le gambe riflesse o tese non le mettiamo in crociate ci allunghiamo bene verso l'alto e ci tuffiamo in avanti e ci rilassiamo giù ora il respiro ora il respiro diventa normale quindi respirate come fareste normalmente e srotoliamo lentamente la colonna e ce ne torniamo seduti portiamo le gambe da una parte e torniamo nella quadrupedia e torniamo nella quadrupedia spingiamo i glutei sui talloni e ci allunghiamo avanti come dei gatti ci stiracchiamo allunghiamo bene bene la schiena ovviamente se non riusciamo a stare con i glutei sui talloni solo l'allunghiamo un pochino e poi portiamo le mani vicino alle ginocchia e ci spingiamo su ora movimenti piccoli retroversione del bacino e lascia cadere la testa giù e ci allunghiamo vai dal bacino due volte ancora retroversione e lascia cadere la testa giù e ci allunghiamo lo facciamo l'ultima volta parti dal bacino nascondi la coda fra le gambe e torno puntiamo l'iltra dei piedi a terra avviciniamo le mani ai piedi chi riesce può appoggiare il tallone completamente a terra altrimenti rimaniamo su non fa niente senti la testa pesantissima e lentamente stendi le gambe se riesci a stenderle se non le lasci leggermente flesse è uguale le braccia sono pesanti giù la testa è pesante verso il pavimento deve sentirsi come attratta se le mani ti danno fastidio puoi sempre incrociare le braccia e lasciarti giù l'importante è che tieni sbloccato il collo le spalle puoi giocare un pochino con il piede provando a portare il peso sull'avampiede e sul tallone senza rigidire nulla però puoi anche provare a fare dei piccolissimi movimenti oscillatori a destra e a sinistra provando sempre di più a spostare il bacino sopra i talloni quindi non qui ma qui ora lasci pesante tutto e srotoli lentamente la colonna se vuoi anche piegando le gambe e se ti dà fastidio la schiena anche appoggiando le mani sulle ginocchia siamo ritornati su prendiamo aria ci allunghiamo bene verso l'alto e ci lasciamo ancora prendo aria mi allungo bene verso l'alto e lascio ancora mi allungo, mi allungo, mi allungo e lascio tengo su prendo la testa e tiro da una parte e vai dall'altra parte prendo la testa e tiro non tiro giù eh mi allungo lascio un braccio l'altro ancora una volta mi allungo lascio un braccio l'altro e vi ringrazio l'altro 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 non tiro Grazie a tutti.